ciao sono luigi frezza e ti do il benvenuto su narrativamente discorsi di psicologia per migliorare le storie della tua vita bene eccoci qua benvenuto all'episodio numero 13 di narrativamente il podcast che ti racconta di psicologia dal punto di vista postmoderno e non strutturalista è passato tanto tempo dalla pubblicazione delle dell'ultima puntata del podcast la puntata 12 la puntata 13 in effetti sono state pubblicate contemporaneamente inizio luglio 2017 ci troviamo adesso a fine febbraio 2018 adesso che sto registrando questa puntata siamo al 23 febbraio 2018 per cui sono passati giorno più giorno meno circa otto mesi cosa è successo in questo lasso di tempo è successo che mi sono perso mi sono perso nella collaborazione con un problema che definirei inadeguatezza nel comunicare nel gestire il mio brand perché ti voglio parlare di questo mio rapporto con questo problema perché insomma questa puntata sarà incentrata su questo ti voglio parlare di questo non tanto perché ho ricevuto richieste di persone che mi chiedevano come mai non stessi più pubblicando podcast questo è un podcast relativamente giovane le puntate non erano tante e parla di un argomento abbastanza impegnativo come un nuovo modo di fare psicologia decostruendo un po quelle che sono delle narrazioni dominanti relative a questa professione quindi non è che avessi una fan base chissà quanto è elevata quindi diciamo le persone hanno continuato a vivere uguale anche se io non pubblicavo queste puntate ma te ne voglio parlare più che altro con due intenti il primo è quello di cercare di riprendere i discorsi che avevo iniziato in questo podcast e quindi attraverso la mia testimonianza voglio comunque spiegarti dei concetti secondo è perché spero che questa mia testimonianza magari possa esserti d'aiuto nel momento in cui tu sei in relazione con un problema che si comporta in maniera simile a quello in cui al problema con cui ho avuto a che fare io che tuttora ho a che fare anche se adesso riesco a tenerlo un pochettino più a bada bene stacco musicale e poi entriamo nel vivo della nostra puntata ok quindi come stavo dicendo prima ho collaborato per diverso tempo anche adesso un poco anche se sono riuscito a prendermi un po più di spazio ho collaborato con diversi per diverso tempo con un problema che definirei in adeguatezza nel gestire il mio brand ma di cosa sto parlando perché sto parlando in questi termini allora se hai già seguito narrativamente alcune mie puntate sai che questo modo di parlare rispetto al problema è un modo che si chiama esternalizzazione del problema se non hai mai seguito questo mio podcast oltre a invitarti ad ascoltare le puntate precedenti in cui puoi avere maggiori chiarimenti rispetto a questa pratica e in generale rispetto all'approccio narrativo faccio un breve riassunto quindi faccio un passo indietro l'approccio narrativo è un approccio di natura post moderna non strutturalista socio costruzionista in in psicologia nell'ambito della relazione d'aiuto che ha come obiettivo quello di aiutare le persone a costruire delle storie alternative della loro vita partendo dal presupposto che ognuno di noi costruisce la propria realtà sulla base delle proprie mappe interpretative le mappe interpretative così come si modificano nel corso del tempo diventano narrazioni dei nostri eventi dei eventi che ci hanno visti protagonisti degli eventi che abbiamo assistito narrazioni delle nostre esperienze narrazioni delle nostre relazioni narrazioni di noi stessi come ci muoviamo nel all'interno del mondo il discorso è che molto spesso le persone che vengono a chiedere aiuto a me sono persone che dal punto di vista narrativo hanno delle problematiche quindi hanno una narrazione fortemente intrisa da questo problema sono concentrati su questo problema e allora ci sono due modi che abbiamo per poter raccontare delle situazioni problematiche che portano dolore e sofferenza ad una persona il primo è il modo classico a cui siamo tutti quanti noi abituati culturalmente da quando siamo nati fondamentalmente che è l'utilizzo di un linguaggio internalizzato vuol dire descrivere la situazione problematica rimandando a noi stessi le nostre caratteristiche di personalità cioè sto male sono malato sono stupido sono cretino sono pazzo sono un fallito e così via la pratica dell'internalizzazione viene molto rafforzata da alcune discipline anche da ambiti del sapere nell'ambito della nostra nell'interno della nostra società considera ad esempio la psicopatologia no le diagnosi psicopatologiche si basano su un linguaggio internalizzato questa persona è schizofrenica questa persona è depressa è ossessivo compulsiva e via discorrendo e quindi questo è un modo un altro modo è esternalizzare il problema che è quello che suggerisce la terapia narrativa cioè immaginare che io sono in relazione con un problema cioè che il problema fosse come una specie di essere vivente che è presente nella mia vita agisce nella mia vita con degli obiettivi con una volontà con delle intenzioni e influenza la mia vita portandomi a vivere a fare a pensare a sentire determinate cose che sono poco utili per me l'applicazione della pratica dell'esternalizzazione secondo me ha una serie di vantaggi prima di tutto immaginando che il problema è esterno da me quindi non sono io il problema ma sono in relazione con il problema questo mi dà più spazio di movimento e mi permette di respirare un po di più perché se io immagino me stesso come strutturalmente intrinsecamente danneggiato fallito malato psicopatico stupido cretino e via discorrendo diventa più impegnativo cercare di fare un lavoro di superamento del dolore perché vorrebbe dire entrare nell'ottica del modificare la mia personalità modificare la mia struttura caratteriale cioè modificare degli aspetti fondanti strutturali appunto del mio essere persona se io invece immagino di essere in relazione con un problema allora non c'è alcun giudizio di valore su di me come individuo ma sto comunicando a vari livelli con un qualcos'altro che sta cercando di prendere spazio nella mia vita siccome una relazione si fa in due ecco che io anche ho un ruolo all'interno di questa relazione ho possibilità di agire posso immaginare me stesso come in grado di compiere delle azioni se io mi immagino come strutturalmente malato strutturalmente stupido fa parte di me questa cosa allora tutto ciò che faccio viene in qualche maniera macchiato da questa idea se invece non ho giudizi di valore su me stesso ma agisco contro un problema o agisco in relazione con un problema ecco che ho più libertà di movimento e questo è un vantaggio fondamentale dell'esternalizzazione un altro vantaggio è che a questo punto io creando spazio tra me il problema posso iniziare a raccontare la storia del problema quando si è manifestato nella mia vita la prima volta come si comporta nella mia vita quali sono gli obiettivi che ha quali sono i momenti in cui è più forte i momenti in cui meno forte e questo vuol dire anche poter porre l'accento sulle volte in cui riesco a contrastare il problema sulle volte in cui io riesco a compiere delle azioni a mettere in atto delle strategie che tengono il problema un pochettino più a bada allora poi il discorso diventa immaginare cosa posso fare per poter consolidare queste azioni di contrasto al problema in maniera tale da lasciargli sempre meno spazio e acquisire io più spazio per me per la mia vita e questo spazio è rappresentato dai miei valori da ciò che voglio fare dai miei obiettivi dalle esperienze delle mie speranze dalle visioni che ho di me stesso dai miei principi dagli impegni che voglio profondere nella mia vita per poter influenzare in qualche maniera il mondo lasciare un segno nel mondo e quindi ampliando sempre più lo spazio di vita tenendo sempre più a bada il problema riesco per utilizzare una metafora molto cara alla terapia narrativa riesco a recuperare questo senso di authorship cioè di essere autore della mia vita e quindi di essere alla guida della macchina dell'auto che è la mia vita ecco quindi ti parlo in questi termini della mia situazione problematica che ha portato alla sospensione per questi otto mesi del podcast te ne parlo in termini esternalizzati perché per me risulta estremamente più semplice mi dà più spazio per poter riflettere e ragionare rispetto al problema ecco quindi sono in relazione sono stato in relazione per tanto tempo e tuttora un po' lo sono con questo problema tra l'altro c'è anche un aspetto fondante che io posso dare al problema il nome che ritengo più opportuno più vicino alla mia esperienza per questo questo problema con cui ho a che fare l'ho definito inadeguatezza nel gestire il mio brand questo anche delle dei riverberi molto interessanti potrebbe avere nella tua vita nella vita perché immagina un cliente che viene da me che ha ricevuto una diagnosi di qualsiasi tipo dal punto di vista psicomatologico schizofrenia disturbo borderline qualsiasi cosa si può domandare alla persona esternalizzando il problema anziché dire sei schizofrenica dicendo sei in relazione con un problema che chiamiamo schizofrenia però risulta ancora più interessante se domandiamo alla persona bene questo problema che ti è stato definito da altre persone da altri contesti come schizofrenia tu come lo chiami e quindi a questo punto rimaniamo legati alla definizione iniziamo a lavorare con la definizione che la persona dà di questo problema se la persona il problema schizofrenia per esempio lo definisce un mostro verde che mi ha vita sul collo noi non stiamo più lavorando con la schizofrenia lavoriamo col mostro verde che ci ha alità sul collo e lavoriamo sulla relazione che questa persona ha col mostro verde che ci ha le alità sul collo punto e basta allora io mi sta stavo collaborando con con questo problema ho collaborato per tanto tempo con questo problema questo problema è a passo nella mia vita diciamo da quando ho iniziato a ragionare su come gestire al meglio dal punto di vista del marketing il mio brand ho iniziato a ragionare proprio in termini di costruire un brand attorno alla mia figura come professionista dopo un iniziale fase ti parlo di 7 8 anni fa in cui avevo creato un sito vetrina e questo sito vetrina come funzionava all'epoca riusciva comunque ad avere una certa visibilità e quindi mi arrivavano anche clienti attraverso questo sito vetrina e forse è stato uno dei primi a salerno avere questo sito vetrina come è cambiata poi la situazione del marketing del web 2.0 con l'arrivo dei social e tutto il resto più che con l'arrivo dei social diciamo con l'imporsi della cultura dei social e tutto il resto ovviamente il sito vetrina non funzionava più e si inizia a ragionare in termini di creazione di contenuti tra cui questo stesso podcast anche può essere stato può essere immaginato come una creazione di contenuti nell'ottica di poter far conoscere maggiormente il mio brand perché c'è anche questo aspetto ebbene io ho iniziato quindi a studiare a parlare a confrontarmi con esperti di marketing con colleghi che magari erano più bravi di me da questo punto di vista che avevano ragionato da questo punto di vista ho iniziato a leggere articoli a comprarmi libri eccetera eccetera e contemporaneamente e si è diciamo acquisito sempre più potere nella mia vita questo questo problema ci sono state delle volte che sono riuscito a contrastarlo per esempio il fatto stesso di mettermi a creare questo brand questo questo podcast chiedo scusa era un modo per contrastare questo problema perché all'inadeguatezza nella gestione del mio brand ho cercato di rispondere con cerchiamo di gestire questo brand e costruiamo questo podcast e tra l'altro il secondo obiettivo anche di questo podcast è cerchiamo di lasciare un segno per quanto minimo possa essere ma comunque non voglio tenere solamente per me le conoscenze relative all'approccio narrativo che ho acquisito studiando per conto mio leggendo articoli e libri in inglese e andando anche all'estero creando rete con professionisti europei e oltreoceano rispetto a questa metodica che è molto diffusa nel resto del mondo in italia sono pochissimi che la praticano e la conoscono forse al sud italia sono l'unico e qualche altro mio allievo ecco quindi contemporaneamente dicevo si allargavo acquisiva potere questo questo problema che aveva come effetto sulla mia vita il pensiero l'idea la sensazione di non essere in grado di essere sempre manchevole di qualcosa di non avere individuato una nicchia specifica di riferimento di non poter gestire bene la mia immagine di parlare in maniera troppo tecnica e di esprimere in maniera troppo tecnica questi concetti in effetti questo problema mi aveva fatto cadere in due in una serie di narrazioni dominanti appunto la narrazione dominante della nicchia che è una narrazione dominante nel marketing anche nel marketing per quanto riguarda la relazione d'aiuto che è molto molto potente spesso si dice anzi più che spesso si dice bisogna trovare una nicchia di riferimento ora il problema mio nell'ambito della dell'approccio narrativo è che l'approccio narrativo può essere applicabile a tante problematiche è un punto di vista che decostruisce questa idea molto modernista figlia della rivoluzione industriale della visione dell'uomo come macchina che a uno specifico problema esista una specifica metodica no è come se io avessi una specifica chiave inglese per girare una specifica vite e quindi ci sono delle metodiche per gestire l'ansia ci sono delle metodiche per gestire il lutto ci sono delle metodiche per gestire il tradimento e così via l'approccio narrativo non è così l'approccio narrativo decostruisce anche un poco queste idee è un insieme di concetti di visioni filosofiche di visioni epistemologiche che cercano di diciamo raccontare le problematiche delle persone in maniera diversa come ti ho detto prima se la persona mi racconta del suo problema con il suo linguaggio ogni persona mi può raccontare del suo problema con il suo linguaggio quindi non ho più a che fare con l'ansia non ho più a che fare col tradimento non ho più a che fare con l'insonnia non ho più a che fare con il lutto ho a che fare con il termine che mi dice la persona vedi che in questo caso si diciamo diventa più complesso l'idea di trovare una nicchia specifica in questo io ho cercato di seguire questa narrazione dominante di allinearmi a questa narrazione dominante quindi sì lavoro molto spesso con il lutto perché mi piace ok però tendenzialmente poi quando la persona mi definisce il lutto col suo linguaggio io non sto più lavorando con il lutto oppure posso immaginare di lavorare maggiormente con le coppie perché un conto è lavorare con le coppie chiare un conto è lavorare con i singoli individui però anche lì le coppie la coppia mi porta un problema che è frutto di una mediazione di significati tra come entrambi i partner definiscono il problema e quindi si lavora molto anche su come loro chiamano insieme il problema mentre invece ci sono diciamo degli orientamenti psicologici tradizionali dominanti no quelli più diffusi mainstream possiamo chiamarli che definiscono chiaramente cos'è la problematica dell'ansia rispetto alla problematica della depressione rispetto alla problematica dell'insonnia e così via no si fa quella che tendenzialmente viene definita una diagnosi differenziale ecco io nel in questo campo non mi trovo a mio agio con l'approccio narrativo ho provato mi sono allontanato da questa visione l'ho provata a ricostruire a vedere in maniera critica per cui il primo problema che mi si poneva davanti appunto era l'individuazione della nicchia vedevo che il mio modo di ragionare rispetto al mio brand non era allineato con quest'idea dell'individuazione della nicchia non quantomeno con questa idea così tanto specifica che mi sembrava venisse da questi discorsi di marketing relativi alla nicchia un'altra narrazione dominante è una narrazione dominante che avevo da un bel po' di tempo anche quando stavo costruendo le puntate di questo podcast e lo stavo pubblicando più o meno più o meno diciamo costantemente fino a luglio dell'anno scorso è l'idea di avere un linguaggio troppo tecnico o di parlare in maniera troppo tecnica questa è anche un'idea che me l'ha stata riportata da alcune persone che io stimo mi ricordo un mio collega che mi disse quest'estate se è troppo tecnico nel parlare dovresti parlare in maniera più plasmon dove la metafora plasmon indicava dovresti parlare in maniera molto più semplice più facile per farti capire dalle persone e quindi io mi sono anche perso all'interno di questa narrazione perché è il modo in cui io parlavo in cui io parlo dell'approccio narrativo utilizzando dei concetti presi dal diciamo dalla letteratura di riferimento nell'ambito narrativo è un qualcosa che a me diverte mi piace mi sento a mio agio nel utilizzare questi linguaggi mi sento a mio agio nel utilizzare questi concetti per cui questo devo dire che è stato un po' il colpo di grazia cioè è stato quello che mi ha fatto fermare quest'estate e adesso io come faccio a trasformare in maniera più semplice tutti quanti questi concetti per renderli più comprensibili e questo mi ha bloccato significativamente è stata l'ultima goccia poi ci sono state anche altre narrazioni dominanti per esempio l'idea della frequenza della costanza cioè di pubblicare lo stesso giorno allo stesso orario la puntata del podcast che capivo fino a un certo punto però se noi aggiungiamo anche le narrazioni dominanti che mi soffocavano di cui ti ho detto prima iniziavo a diventare impegnativo cioè iniziavo a perdere quella sensazione di divertimento che avevo nel pubblicare le prime puntate del podcast perché il podcast è impegnativo e tuttora continua ad essere impegnativo anche adesso che sto facendo questa registrazione è impegnativo dover pensare come poter parlare che tipo di parole scegliere come cercare di essere il più possibile chiaro nell'espressione della mia testimonianza però la fatica era proprio dovuta alla sensazione di disillusione di mancanza di fiducia perché quello che stavo dicendo risultava troppo complesso e che solamente quattro gatti potevano capirmi neanche tanto e quindi mi sembrava più che altro una masturbazione mentale questo anche era quello che avevo recepito dai feedback che mi davano che mi avevano dato altre persone che ero troppo tecnico un'altra narrazione dominante era tra l'altro anche la gestione per esempio del marketing della puntata del podcast cioè come poter diffondere al meglio questo contenuto e quindi magari fare una campagna promozionale cioè legarmi tutto quanto a questo discorso relativo al marketing e perdendomi anche in questo discorso perdevo anche di vista un po' la visione dei contenuti ecco l'idea di che tipo di contenuto produrre io capisco tutti quanti questi discorsi tutte quante queste narrazioni le capisco solo che a volte mi sembrano molto molto rigide per esempio un'altra narrazione riguardante la scientificità del marketing della capacità di fare marketing è un altro aspetto che mi metteva abbastanza a disagio perché quando facciamo marketing parliamo di persone parliamo di relazioni umane e una cosa che io sostengo da sempre se hai seguito anche altre puntate del podcast mi avrei sentito dirlo le scienze umane le scienze sociali sono scienze non esatte quindi non possiamo avere questa sicurezza di prevedere il comportamento delle persone alla luce degli miei interventi a livello sociale a livello comunitario di cui anche il marketing è un intervento a livello sociale per come la vedo io e quindi non c'è quella sicurezza io vedevo e sentivo altri esperti proprio nel marketing nel content marketing nel web marketing che parlavano di sicurezza nel modo in cui diffondevano le loro informazioni se fai così ottieni questo se ottieni questo poi succede quest'altro ma mi trovavo abbastanza disagio in questa informazione la vedevo poco allineata con le mie idee tra l'altro come ho detto anche in altre puntate del podcast difficilmente le scienze umane secondo me sono identificabili proprio come scienza propriamente detta secondo l'epistemologia di Karl Popper l'epistemologo che diceva che una caratteristica fondante della scienza è l'applicazione del principio di falsificabilità cioè il fatto che io posso costruire una teoria è che questa teoria deve essere comunque falsificabile deve avere dei limiti io devo evidenziare le criticità della mia teoria perché posso poi proseguire con lo sviluppo della conoscenza ecco le scienze sociali difficilmente la psicologia soprattutto secondo me in alcuni casi difficilmente applicano questo principio di falsificabilità si basano su principi di non falsificabilità cioè diciamo la mancanza di efficacia dell'approccio è dovuta non tanto alle criticità intrinseche all'approccio alla teoria ma è dovuta al fatto che per esempio il cliente l'utente il pubblico poco coglie queste informazioni quindi il problema sono le resistenze del pubblico sono le resistenze del cliente le resistenze del paziente e non i limiti dell'approccio e i limiti di come il professionista applica questo approccio questa è un'idea molto diffusa nell'ambito della psicologia ho parlato in alcune puntate precedenti dell'articolo di un certo Hansen del 2002 che proprio sottolineava questo problema relativo alla scientificità così come viene intesa tradizionalmente la scienza della scientificità della psicologia e soprattutto dell'applicazione nell'ambito della relazione d'aiuto della psicologia ecco quindi mi sono abbandonato a queste narrazioni dominanti ho cercato di allinearmi a queste narrazioni dominanti per diverso tempo e ho cercato di allineare anche la produzione del podcast dei contenuti del podcast a queste narrazioni dominanti per diverso tempo e più facevo questo più diciamo acquisiva potere l'inadeguatezza nella gestione del mio brand che mi portava una conseguenza fondamentale la sensazione di fallimento a livello professionale la sensazione di lasciare tutto in sospeso poi negli ultimi tempi è successa una cosa a giugno del 2017 quindi comunque un mese prima che io sospendessi la pubblicazione del podcast sono andato a fare un corso avanzato di terapia narrativa a Londra e abbiamo approfondito un tema che era stato lampeggiato nei corsi precedenti che era il tema del fallimento come la terapia narrativa lavora con persone che portano una narrazione relativa alla sensazione di fallimento di non essere riuscito a fare delle cose nella propria vita è un modo interessante in cui Michael White uno dei due fondatori della terapia narrativa che è venuto a mancare nel 2008 quindi sono ormai dieci anni che non è più presente tra di noi e ha lasciato però una serie di idee su cui poter ragionare ecco Michael White suggeriva che era possibile immaginare il fallimento anche in maniera diversa da quella in cui viene tendenzialmente immaginato nella nostra cultura occidentale il fallimento è un vissuto che riguarda l'incapacità dell'individuo di essere produttivo e che riguarda le sue caratteristiche anche personali le persone fallite sono persone che non funzionano che non vanno bene che non riescono a raggiungere niente non sono persone di successo e il concetto di successo è fondamentale nella nostra cultura invece Michael White suggeriva che oltre a questo c'è un altro modo per poter raccontare il fallimento il fallimento può essere raccontato come una sorta di reazione e resistenza della persona nei confronti dei giudizi normalizzanti quindi si collega il concetto di fallimento al concetto di giudizio normalizzante il giudizio normalizzante è quel giudizio sociale che poi diventa un giudizio anche personale su come dobbiamo comportarci in determinati contesti su come dobbiamo allinearci a delle regole sociali o come possiamo allontanarci in che misura possiamo allontanarci rispetto a delle regole sociali quindi il fallimento può essere vista anche come l'incapacità l'impossibilità da parte di una persona o la decisione libera da parte di una persona di non essere allineata a delle regole sociali predefinite delle regole implicite ha delle norme su come ci si deve comportare questa è un'idea che avevo lasciato diciamo sospesa per un po' di tempo e che non avevo mai applicato diciamo nella mia lavoro clinico non avevo mai applicato avevo utilizzato altri modi di praticare la terapia narrativa per poter aiutare le persone che mi portavano queste problematiche poi ho deciso con il collega Antonio Motulli il collega col quale io collaboro ormai da diversi anni e col quale stiamo provando a diffondere una cultura della psicologia postmoderna e non strutturalista in Italia abbiamo deciso di organizzare un livello avanzato del corso online che organizziamo già da diverso tempo sugli approcci non strutturalisti in terapia e in psicologia così lo abbiamo chiamato quindi abbiamo deciso di organizzare questo livello avanzato ed è stata questa l'occasione per poter proporre una serie di lezioni di livello avanzato tra virgolette di terapia narrativa e quindi di parlare anche del tema del fallimento nel preparare queste lezioni quindi ho dovuto riprendere in mano questo concetto e ho iniziato a ragionare sul fatto che poteva essere che la mia sensazione di fallimento legata alla collaborazione con l'inadeguatezza nel gestire il mio brand potesse essere anche vista non solamente come una manifestazione della mia incapacità di concludere delle cose e della mia incapacità di potermi gestire bene a livello di marketing ma poteva essere anche vista come una sorta di reazione a quelli che erano dei giudizi normalizzanti relativi a come bisogna essere bravi nel marketing a come si gestisce in maniera esatta corretta efficace produttiva il marketing e pensando da questo punto di vista ho iniziato a riflettere a cosa mi stavo ribellando a quale idee a quali narrazioni dominanti nell'ambito del marketing mi stessi ribellando e sono appunto quelle di cui ti ho parlato poc'anzi e ho iniziato quindi a vedere il mio atteggiamento di sospensione del podcast come una resistenza a chi mi diceva ovviamente per come io interpretavo diciamo queste informazioni cosa era la cosa migliore da fare per poter ottenere determinati risultati e vedevo questa frizione tra questi valori e queste idee e i valori e le idee che portavano che portano avanti la mia professione che portano avanti la visione narrativa che ho deciso essere un aspetto fondante non solamente della mia professione ma della mia vita certe cose che venivano dette a livello di marketing che vengono dette a livello di marketing mi sembrano molto interessanti altre come ad esempio anche il discorso su come affrontare lo storytelling e tutta quanto una serie di modelli da seguire di fasi da affrontare di canvas da riempire per poter sviluppare uno storytelling efficace nel modo giusto ecco molto spesso nell'ambito del marketing si utilizza il modo giusto e poco si dice di si utilizza il modo utile il termine utile questo è quello che io ho visto perlomeno da quel poco che ho potuto vedere che ho potuto anche ascoltare cercare di comprendere il modo giusto per fare storytelling il modo giusto per raccontare la tua storia il modo giusto per fare marketing il modo giusto per diffondere il tuo brand questo termine giusto mi stava abbastanza stretto io credo che siamo tutti quanti storie e ognuno ha il suo modo di raccontare le sue storie non esiste un modo giusto sbagliato per qualcuno il mio modo può essere interessante per altri il mio modo può non esserlo una cosa che ritengo utile fare ed è per questo sto facendo anche questa puntata e raccontare maggiormente delle mie esperienze perché mi sono reso conto anche che nelle puntate precedenti dava un po' con l'immagine di me come un un vincente tra virgolette ma non è neanche questo che mi interessa non sono né vincente né perdente questa dicotomia vincere perdere che è molto modernista e forse anche figlia di una visione abbastanza da self made man statunitense non mi interessa tanto a me non è che mi interessa tanto vincere a me interessa avere tante possibilità nella mia vita e interessa anche sfruttare le possibilità di fallimento che vivo nella mia vita in maniera tale da poter individuare quali sono i valori gli aspetti importanti per me cosa mi ha aiutato in qualche modo a affrontare e cercare di gestire questo problema il problema appunto della inadeguatezza nella gestione del mio brand come ti ho detto questo approfondimento sul tema del fallimento nel preparare il corso avanzato in terapia narrativa e diciamo due conversazioni che ho fatto con due persone a dicembre e questa settimana e forse proprio quello che è successo questa settimana ti parlo di a partire dal 19 febbraio 2018 ecco questo mi ha dato la spinta per poter decidere oggi 23 febbraio 2018 di registrare questa puntata e di metterela poi online il giorno dopo adesso che mi stai ascoltando e a partire da sabato 24 febbraio ascolterai questa questa puntata le conversazioni sono state con due persone che voglio citare una è Marco Matera mio caro amico un coach nell'ambito dell'approccio scienziato sulla soluzione che è anche l'approccio che pratica il mio collega Antonio Matulli di cui ti ho parlato prima e l'approccio scienziato sulla soluzione o solution focused come lo chiama Marco Matera è un approccio che per certi versi è molto simile alla visione narrativa parte da dei presupposti simili e quindi io e Marco abbiamo delle idee simili relative al postmodernismo al non strutturalismo al sociocostruzionismo poi ci sono delle differenze anche significative tra i due approcci però calderone teorico epistemologico e filosofico è più o meno simile e Marco Matera mi ha intervistato in una sua nella puntata di un suo programma che conduce assieme a Manuel Picciolo su una radio una web radio che si chiama Radio Rogna il programma si chiama Respiri On Air mi ha intervistato a dicembre poi la puntata è stata trasmessa per la prima volta martedì 20 febbraio ti lascio i link in descrizione qualora volessi ascoltarla e Marco mi domando proprio a dicembre come mai dicembre 2017 come mai non stai più producendo altre puntate del podcast e io gli raccontai un po' dei miei dubbi relativi all'efficacia del mio messaggio al fatto che mi era stato detto che ero troppo tecnico e lui mi disse beh però fossi in te ci rifletterei su questo utilizzo le mie parole perché non mi ricordo esattamente le parole di Marco ma come io ho inteso il senso del suo discorso era io ci rifletterei su questo perché è un piacere anche sentire il tecnicismo del tuo linguaggio anche perché poi tu gli spieghi le cose quindi a me piace il modo in cui tu ti poni all'interno del podcast successivamente io poi ho ascoltato questa puntata ho ascoltato questa settimana la puntata in cui Marco e Manuel mi hanno intervistato ho sentito il mio linguaggio il linguaggio è molto simile a quello che utilizzo nel podcast e ho ricevuto una serie di riconoscimenti da parte di altre persone che mi hanno contattato su facebook mi hanno mandato mail mi hanno contattato su whatsapp e mi hanno detto che è stato molto interessante quello che ho detto e che hanno compreso quello che dicevo e lo stesso Marco Matera poi mi ha mandato dei feedback dicendomi ho riascoltato l'intervista è un puntatone mi ha detto mi permetto di ripetere questa frase è un puntatone è stato hai detto delle cose molto interessanti successivamente sempre questa settimana mi ha contattato Angelo Ricci che non so se lo conosci ma è il conduttore di una trasmissione di un podcast molto importante che è Sognatori Svegli ti lascio anche qui il link in descrizione Angelo Ricci io non lo conoscevo siamo diventati amici su facebook ma non lo conosco personalmente mi ha contattato e mi ha detto che quello che stavo dicendo nella intervista con Marco Matera nel suo programma con Manuel erano delle cose molto interessanti e mi ha domandato come mai hai interrotto il podcast perché fossi in te io lo riprenderei perché hai dici delle cose che secondo me sono di valore io se tu lo riprendessi lo ascolterei volentieri e questa è stata secondo me un'altra spinta importante quello che mi hanno detto Angelo e quello che mi hanno che mi ha detto Marco ma anche che ha detto Manuel l'altro conduttore del programma durante la trasmissione proprio i feedback che dava durante la trasmissione in un'ottica narrativa li interpreterei come delle azioni di accountability viene chiamato in ottica narrativa cioè di dare conto e riconoscere l'influenza del comportamento dell'altra persona sul mondo sulla vita cioè Marco Manuel Angelo e tutte quante le altre persone che mi hanno dato dei feedback in questi mesi relativi al podcast e relativi anche a questa intervista mi hanno fatto accountability hanno riconosciuto l'influenza grande o piccola che sia dei miei contenuti di quello che dico e di quello che faccio nella loro vita l'influenza positiva non importa quantificare il livello di positività però c'è stata seppur un minimo tipo di influenza positiva del mio lavoro sulla loro vita e questo è un aspetto importante secondo me anche da considerare cioè il fatto che abbiamo bisogno dell'accountability secondo me abbiamo bisogno che le nostre azioni vengono riconosciute come importanti e influenti da parte degli altri perché la nostra identità come diceva William James è un continuo fluire frutto di due processi il processo dell'io io soggetto io che agisco nel mondo ma anche il processo del me io complemento oggetto io come racconto me stesso io come vengo raccontato dagli altri e io come racconto gli altri che raccontano me stesso la mia identità è frutto della narrazione che io faccio di me stesso ed è frutto della narrazione che gli altri fanno di me e di come io racconto la narrazione che gli altri fanno di me se io mi concentro solamente sulla narrazione che io faccio di me stesso la mia narrazione è povera perché i valori i linguaggi i concetti i costrutti delle altre persone invece aggiungono nuovi elementi che mi permettono sempre di raccontare storie nuove poi rispetto a me stesso e mi permettono di seguire questo fluire dell'esperienza che è il fluire della mia vita e quindi io devo ringraziare solamente Marco Manuel Angelo e tutte quante le altre persone che soprattutto in questo ultimo periodo mi hanno fatto questi processi di accountability bene direi che siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata cosa voglio lasciarti voglio lasciarti a seguito di questa mia testimonianza appunto l'idea che quando raccontiamo noi stessi raccontiamoci come agenti che riescono ad avere influenza sulla nostra vita e sulla vita degli altri questo è anche un po' l'obiettivo dell'approccio narrativo ed è anche uno dei motivi per cui ho deciso di abbracciarlo un conto è dire ad una persona tu sei fatta in questa maniera prendi consapevolezza del fatto che sei fatto così no e questo è uno degli obiettivi fondanti della psicologia mainstream cioè individuare la persona com'è e queste sono anche molte domande che io ricevo dalle persone ma secondo te io come sono fatto? ma secondo me non è tanto importante come sei fatto è importante soprattutto che azioni compi per poter lasciare un segno nel mondo per poter influenzare gli altri e per poter influenzare te stesso che azioni compi per poter ampliare la sensazione di poter essere autore della tua vita e in quanto autore della tua vita essere anche di esempio di aiuto e appunto essere di influenza positiva nella vita delle altre persone ti ringrazio per avermi ascoltato finora se vuoi ascoltare le mie vecchie puntate mi fa molto piacere se vuoi lasciarmi un commento qui su Spreaker lasciami anche un commento se vuoi lasciarmi un commento su iTunes o una recensione mi fa solamente piacere credo che ci risentiremo presto perché mi sono tornato a divertire nel fare questa puntata e voglio continuare a fare narrativamente divertendomi se cercando di tenere a bada quanto più possibile il problema dell'ineadeguatezza nel gestire il mio brand un saluto e a presto narrativamente la psicologia come non l'hai mai vista né sentita continua grazie grazie per la demo